Il numero 2 di Salvini, io non lo conoscevo, è una prima assoluta l'aria che tira, benvenuto, giovanissimo, quanti anni c'ha Rixi? 40 40? Buona giornata a tutti Li porta bene, sembra un ragazzino, va bene Rixi con la X Con la X, sarebbe Rigi in genovese Come si dice? Rigi Rigi, va bene, adesso imparerò anche quello